Allora ecco il senso di necrologica che chiude la trilogia del pessimismo comico, questo proprio di sdrammatizzare questo che comunque è un dato scontato se vogliamo, perché oggi si ha anche questa visione un po' dell'essere immortali eccetera, non è vero, non è vero, è così, il finale è segnato per tutti. Dove ti accorgi di come venga preso sul serio questo tema? Leggendo i necrologi, gli epitaffi che compaiono scritti nero su marmo su alcune lapidi. Ecco allora l'esercizio di una scrittura breve che fa parte della scrittura se vuoi umoristica, quindi con poche frasi condensare un necrologio che però sia l'esatto opposto, cioè sgombrato il campo dalla retorica, dalla pomposità che l'accadimento impone. Non so per esempio qual è il senso, il libro ne contiene moltissimi, sulla tomba di Pamela Anderson, dico per dire a caso, ecco io ci scriverei, io fossi in lei scriverei, decompormi la vedodura. Ecco questo è il senso, il senso dell'epitaffio che libera. C'è una scrittura breve che comunque identifica un personaggio, non so per dire, non so ma anche personaggi che hanno fatto, ma hanno lasciato un senso, sulla tomba di Bill Clinton, io ci scriverei, non inginocchiatevi. Ecco come come senso, adesso vado completamente a casaccio perché ce ne sono un'infinità. Gianfranco Vissani, non crematemi, vado leggermente scottato. Ecco cioè cose, cose di questo. Ecco questo è il senso, ecco come ironizzare, ma non con l'idea dello sberlefo, ma con l'idea di di accarezzare una ironia, una comicità, liberatoria, non gratificante.